Per prendere che sta lì, la viena India Travolta, Rienti Alfa, pronto a rientro, su Scefagno Rienti Alfa, riporti Scefagno 2000, 3-4 di noto, Rattorialmo 1-0, 1-1-1 Latt Scefagno 2000, incominato a Rattorialmo India Charlie Ascar a Ramadango 3-4, autorizzato all'atterreggio, verso Calmo Rattorialmo 2-3-4, Rattorialmo 1-0 India Bravos, Rienti Alfa, chiede se è possibile fare una sede di Tarciangù su campo Approvati Grazie Approvati Grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.